L'intervento del sindaco di Atessa è legittimo, però lo ritengo un po' sopra le righe, soprattutto non vengono affrontate le vere tematiche. Dire che occorrono degli interventi sull'edizione industriale è una cosa che sappiamo, è una cosa che l'Arap sta facendo, è una cosa che la regione Abruzzo insieme ad Arap si sta cercando di portare avanti. Su quel territorio esiste una concentrazione industriale importantissima per l'Abruzzo e credo che non solo per l'Abruzzo, per cui c'è la massima attenzione. C'è da dire che però la situazione ereditata sui consorsi industriali che poi sono confluiti in Arap è una situazione disastrosa, è una situazione disastrosa a cui man mano stiamo ponendo rimedio, a fronte peraltro di un'altra emergenza che è quella energetica che sta lievitando i costi che sta sopportando esclusivamente Arap e che la regione Abruzzo sta sopportando con dei finanziamenti specifici. Su quel comprensorio a giorni partiranno i lavori proprio in quell'incrocio specifico che va verso un'azienda importante di oltre 23 mila Euro, ma soprattutto vorrei ricordare che nella programmazione 14-20 per l'intervento del settore economico sia infrastrutturale, quindi i consorsi, la viabilità, l'illuminazione e quant'altro, sia dal punto di vista economico non era stato previsto nulla nel cosiddetto master plan che doveva essere la panacea di tutti i mali, nonostante qualcuno avesse a disposizione 750 milioni. Noi, programmazione nuova, quella 21-27 che per effetto della pandemia è diventata 23-27, stiamo mettendo solo per interventi di manutenzione, quindi sulla rete viaria, illuminazione, le erbe e così quant'altro, oltre 25 milioni di Euro. Mi permetto di dire che il Comune di Atessa incassa una risorsa importante derivante dall'Imu di cui il 30% va ai Comuni, credo che anche il Comune di Atessa dovrebbe intervenire su quel comprensorio.